Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora la live chat e mi raccomando l'appuntamento più importante per quanto riguarda il mio canale, iscrivetevi, non lo dico mai ma se volete iscrivetevi, allora l'appuntamento più importante è la live chat domani alle 19, un'oretta insieme, commenteremo Inter-Liverpool, il primo round di questo suntuoso ottavo di Champions League, quindi live chat ore 19, cercate di esserci naturalmente perché poi dovremo preparare anche il prossimo turno di campionato, la 26esima giornata con il Milan a Salerno, partita facile per i rossoneri ma lo sappiamo, Inter-Sassuolo partita certamente a San Siro che ha qualche insidia ma comunque senz'altro più facile di Napoli, Inter, ma adesso è tempo di Champions e vi devo raccontare una cosa stranissima che mi è capitata, ho sognato stanotte Inter-Liverpool, come va a finire Inter-Liverpool, sì ma è un sogno totalmente assurdo, sono un pochino stranito perché io non sogno mai il calcio, cioè pur essendo la mia professione, pur parlando di calcio per ragioni professionali, praticamente 10 ore tutti i giorni, un po' per il canale YouTube, un po' in televisione, non ho mai sognato, cioè che i miei ricordi, io sono uno che i sogni se li ricorda abbastanza, però non avevo mai sognato l'Inter, almeno in epoca recente, o cose di Inter, ed è successa una cosa stranissima, adesso ve lo racconto il sogno, non avevo sognato l'Inter nemmeno quando stavo a Barcellona per la semifinale o addirittura a Madrid per la finale del 22 maggio 2010, sono sicuro che non avevo sognato assolutamente nulla che avesse a che fare con l'Inter, stavolta mi sono sognato un brano di partita, un brano di Inter-Liverpool, non so che cosa voglia dire, non so perché la divinità greca Morfeo, sì Morfeo uno dei mille figli di ipno che prendeva appunto di notte la forma dei sogni, per chi insomma ha fatto studi classici se lo ricorderà Morfeo, nulla a che vedere con Domenico Morfeo che aveva giocato nell'Inter nello scorso millennio, ma che cavolo è successo non lo so, lo so che siete curiosi che vi devo spiegare il sogno, ma non è che ho sognato tutta la notte e tutta la partita, i sogni sono abbastanza confusi, però ho sognato che eravamo sotto, non saprei dirvi chi avesse segnato per il Liverpool perché non me lo ricordo, tra l'altro ho sognato che ero a San Siro, quindi il sogno è già di poco senso perché in realtà io la partita la commenterò sui nostri canali, Tele Lombardia, Top Calcio per chi ci segue, farò la cronaca in diretta questa sera e niente stavo a San Siro ed eravamo sotto, eravamo sotto di un gol e ad un certo punto, sarà che sono andato, adesso ve lo dico il sogno però sapete che vi tengo qui un attimo perché forse perché ieri prima di andare a dormire così stavo guardando un po' la tv eccetera e stavo guardando la sintesi della vittoria del Paris Saint Germain sul Real Madrid e sono andato a vedere i precedenti che peraltro un po' mi ricordavo, i precedenti con il Liverpool, vabbè sapete quello storico della semifinale nel 65 perdiamo 3 a 1 là nel maggio 65 segna Mazzola per noi però becchiamo 3 a 1 ma ritorna un grande capolavoro, corso però Facchetti 3 a 0 vinciamo e andiamo in finale e battiamo il Real Madrid, questo è il primo precedente storico, prestigioso, meraviglioso, poi c'è un altro precedente, un altro precedente più recente nel 2008 dove Danfield Road insomma ci va tutto male, si fa male Cordoba, viene espulso Materazzi, restiamo in 10, stiamo per salvare la pelle ma poi prendiamo due gol, Kite mi pare segnò tra l'86esimo e il 91esimo e a ritorno insomma con lo 0-2 si provò la rimonta ma alla fine becchiamo il gol di Torres e andammo a casa, erano gli ottavi, era l'Inter di Mancini, era due anni prima insomma poi del triplete e anche l'anno dopo saremmo usciti ancora con un inglese, con il Manchester, era il periodo che Ibra giocava nell'Inter ma non riusciva ad essere incisivo nella Champions e quindi questo è il terzo precedente, sarà che andando a leggere i precedenti, non so forse mi è rimasto impresso qualcosa, vabbè resta il fatto che il mio sogno ha dell'incredibile, cioè quindi magari c'è qualcuno di voi che sogna le partite, i risultati e poi se li va a giocare magari ci prende anche, sono un po' queste cose uniriche, queste coincidenze, vabbè io ho sognato che eravamo sotto perché ho questo flash del tabellone di San Siro dove c'è scritto Inter 0 Liverpool 1, quindi siamo sotto di un gol, la partita sta finendo e a un certo punto pareggiamo, ma attenzione non è che pareggiamo in maniera così normale, ho sognato che entrava Caicedo ragazzi, no veramente, ho sognato che entrava Caicedo, Pippo Caicedo, Pippo Caicedo non mica la gioca la partita, sta in panchina e ho sognato che nell'arrembaggio finale, quei pochi frame che ho, c'è Pippo Caicedo che entra, insomma c'è in campo Caicedo e fa gol su una mischia, un flipper in area e la partita finisce 1-1, non lo so se è un segnale, non ne ho la ben che mi ne ha idea, sta di fatto che mi sono svegliato ridendo perché poi mi è venuto in mente e ho detto ma come si fa a sognare Caicedo, ma vi rendete conto, sapete i sogni che non hanno senso, ecco questo con il gol di Caicedo negli ultimi minuti di Inter Liverpool a San Siro e poi finisce 1-1, non è che abbia sognato proprio l'arbitro, l'arbitro tra l'altro il polacco Marziniak, però niente, ho questo flash, non ho sognato neanche il gol dellì, cioè il mio sogno parte che noi siamo sotto 1-0 e la partita sta finendo, c'è l'arrembaggio finale dell'Inter, a un certo punto questo flash di Caicedo che entra, e poi c'è uno stacco nel sogno, nel senso che non ho altre azioni davanti, a un certo punto la mette Caicedo su Flippen, vi rendete conto l'assurdità del sogno, cioè il sogno è totalmente assurdo, Caicedo non ha ancora giocato una partita nell'Inter, si è appena arrivato, appena avuto un affaticamento muscolare è andato in panchina e quindi non chiedetemi perché ho sognato Caicedo, non chiedetemi perché ho sognato questo risultato, certo che se stasera dovessi mettermi a commentare poi un 1-1 finale, insomma qualche cosa a livello di premonizione mi verrebbe, non credo proprio che il gol lo possa segnare Caicedo, parliamoci chiaro, però insomma magari è un segnale che l'Inter questa partita non la perde e poi andrà a giocarsela, ritorno all'8 marzo a Danfield Road. Formazione direi che è confermata salvo sorprese dell'ultima ora, andiamo in campo con la formazione migliore, io continuo a pensare che al centro dell'attacco ci sia Lautaro e non Sanchez, poi probabilmente ci sarà staffetta tra i due, però ecco se dovesse entrare Caicedo vuol dire che le cose o si sono messe male numericamente oppure che siamo veramente alla disperazione, però insomma volevo raccontarvi questo sogno anche perché io non sogno mai cose di calcio e non so che valore dare a questo sogno, io do a questo sogno un valore nullo, cioè per me non lo so che cavolo mi è preso, ripeto non sogno mai cose di calcio e vado a sognare che mi segna Caicedo ragazzi dai siamo seri. Vabbè comunque volevo raccontarvi questo sogno, per il resto come dico sempre i nostri obiettivi sono altri, ciò non vuol dire trascurare assolutamente questo prestigioso impegno europeo, che i ragazzi vadano in campo, si divertano, facciano esperienza internazionale che ci servirà magari l'anno prossimo e noi parleremo naturalmente di Inter Liverpool nella live chat di domani alle ore 19, vi aspetto numerosi, viva l'Inter come sempre dico Pippo Caicedo ragazzi, ma si può sognare Pippo Caicedo, ciao a tutti